I batteri, così come i virus, sono dei microorganismi capaci di causare all'interno del corpo umano delle malattie, quindi delle patologie, però in realtà presentano tantissime caratteristiche diverse rispetto ai virus. Prima di tutto nel nostro organismo noi abbiamo una grande quantità di batteri che in realtà è tutt'altro che negativa, ma anzi estremamente positiva. E parliamo della flora batterica intestinale, cioè detto anche microbiota, cioè un accumulo di batteri a livello intestinale che ci permette realmente di vivere, perché ci permette di assorbire le sostanze corrette, di mantenere un equilibrio perfetto nel nostro organismo e anche di sintetizzare una serie di sostanze che sono estremamente importanti per la nostra vita. Inoltre i batteri vivono da sole, a differenza dei virus che invece sono dei parassiti, i batteri sono capaci di vivere senza mai toccare un essere vivente. Un esempio molto calzante è quello di una stanza. Se noi chiudiamo una stanza per mille anni non troveremo nessun virus, almeno per quelli conosciuti oggi dalla medicina, invece troveremo tutti i batteri del mondo perché non hanno bisogno appunto dell'uomo. Quali sono i batteri con cui ci andiamo a scontrare regolarmente, quelli patologici? La salmonellosi è legata alla presenza del batterio appunto della salmonella, l'elicobacter pylori che forse non vi dice niente ma in realtà è uno dei principali se non addirittura l'unico responsabile dal punto di vista infettivo delle gastriti nel mondo ed è un batterio molto difficile da combattere e che crea tantissimi danni. Abbiamo anche però dei batteri che all'interno delle strutture ospedaliere ma non solo sono capaci addirittura di uccidere direttamente l'uomo perché non abbiamo tra l'altro più antibiotici per combatterlo. Il più grave è l'acinetobacter ma anche la pseudomonas, sono tutti i numeri, le schieriche a core, la clebsiella, sono tutti i batteri che all'interno delle strutture ospedaliere si rinforzano ancora di più e diventano più aggressivi e sono veramente un grave danno per la salute umana pensate causano 137 morti al giorno. Contro i batteri la nostra arma è l'antibiotico però ormai gli antibiotici stanno terminando, c'è poco investimento da parte delle case farmaceutiche e qual è l'indirizzo più importante da dare? L'antibiotico per i batteri e comunque in generale va utilizzato sempre con estrema attenzione facendo l'antibiogramma, non c'è bisogno se dobbiamo fare una piccola carie di fare le coperture antibiotiche che non servono a niente se non sappiamo qual è l'infezione. L'elemento più importante per gli antibiotici è prenderli sempre sotto prescrizione medica e sempre dopo un antibiogramma. Grazie, alla prossima. Grazie.